la fabbrica di cioccolato di roald hall un giorno il principe bondi cherry scrisse una lettera al signor willy wonka cominciò nonno jo per chiedergli di andare fino in india a costruirgli un colossale palazzo fatto tutto di cioccolato e il signor wonka riuscì a costruirlo nonno certo e che palazzo aveva cento stanze ed era fatto tutto ma proprio tutto di cioccolato al latte o fondente i mattoni erano di cioccolato la calce che li teneva insieme era di cioccolato le finestre erano di cioccolato le pareti e i soffitti di cioccolato come pure i tappeti i quadri i mobili e i letti e quando si aprivano i rubinetti del bagno ne usciva fuori cioccolata calda quando il palazzo fu pronto il signor wonka disse al principe bondi cherry però vi avverto maestà non durerà a lungo quindi vi consiglio di cominciarlo a mangiare subito che socchezza esclamò il principe non ho alcuna intenzione di mangiare il mio palazzo non voglio neanche sbocconcellare un po le scale o leccare le pareti io nel mio palazzo ci voglio andare a vivere naturalmente però aveva ragione il signor wonka infatti dopo qualche tempo arrivò una giornata particolarmente calda con un sole fortissimo e l'intero palazzo cominciò a sciogliersi e ad afflosciarsi lentamente quel matto di un principe che in quel momento stava schiacciando un pisolino in salato si svegliò e si ritrovò a nuotare in un dimension lago marrone di cioccolato appiccicoso il piccolo charlie se ne stava seduto immobile sul bordo del letto tutto preso dal racconto del nonno aveva il volto come illuminato e gli occhi talmente sgranati che si poteva vedere il bianco tutto intorno all'iride ma questa storia è proprio vera chiese non è che mi stai prendendo in giro altro che se è vera esclamarono in coro i quattro vecchietti sicuro che è vera chiedilo pure a chi ti pare anzi ti dirò anche un'altra cosa che è vera disse nonno jo avvicinandosi ancora di più a charlie e abbassando la voce in tono confidenziale come per sussurrargli un segreto mai nessuno ne esce esce da dove domandò charlie e mai nessuno ci entra entra dove gridò charlie ma nella fabbrica wonka no di che cosa stai parlando nonno sto parlando degli operai è chiaro gli operai tutte le fabbriche piegò nonno jo hanno operai che entrano ed escono dai cancelli la mattina e la sera tutte tranne quella di wonka di un po hai mai visto qualcuno che entrasse o uscisse da quel posto il piccolo charlie si guardò lentamente attorno fissando una dopo l'altra quelle quattro vecchie facce tutti ricambiarono lo sguardo erano facce sorridenti e benevole ma erano anche molto serie non c'era alcun segno che stessero scherzando o tentando di prenderlo in giro allora l'hai visto o no insiste nonno jo veramente io non lo so nonno balbettò charlie ogni volta che passo davanti alla fabbrica i cancelli sembrano chiusi esatto esclamò nonno jo ma ci deve pur essere qualcuno che ci lavora là dentro sì ma non sono persone charlie o perlomeno non sono persone nel senso comune della parola e allora chi sono chiese charlie il segreto è tutto qui capisci questo è un altro segno della straordinaria abilità del signor willy wonka charlie tesoro disse la signora bucket da dove era rimasta in piedi vicino alla porta è ora di andare a letto per stasera basta ma mamma devo sapere domani caro proprio così disse nonno jo domani sera ti racconterò il resto la sera dopo nonno jo continuò la sua storia charlie devi sapere che fino a non molto tempo fa c'erano migliaia di persone che lavoravano nella fabbrica del signor willy wonka poi un giorno all'improvviso il signor wonka chiese a tutti loro di andarsene a casa e di non tornare mai più come mai per via delle spie spie già vedi tutti gli altri produttori di cioccolato erano sempre più invidiosi dei meravigliosi dolci che il signor wonka aveva inventato e così cominciarono a mandare delle spie per rubargli le sue ricette segrete le spie si facevano assumere alla fabbrica wonka e una volta dentro ognuno di loro si dava da fare per scoprire esattamente come si preparava una certa specialità e poi tornavano a riferirlo alle altre fabbriche chiese charlie deve essere andata proprio così rispose nonno jo perché subito dopo la fabbrica fickle gruber lanciava sul mercato un gelato che non si scioglieva mai neanche sotto il sole più cocente dopo un po la fabbrica del signor prodnos se ne usciva con una gomma che per quanto a lungo si masticasse non perdeva mai il sapore poi la ditta slugwort si metteva a produrre palloncini di zucchero che potevano essere gonfiati fino a raggiungere dimensioni enormi prima di farli scoppiare con uno spillo e mangiarli insomma questa storia andò avanti per un pezzo il povero signor willy wonka era disperato si strappava la barba e gridava è una cosa terribile andrò in rovina ci sono spie dappertutto mi toccherà chiudere la fabbrica ma poi non l'ha chiusa vero disse charlie e invece sì un bel giorno disse a tutti gli operai che gli dispiaceva tanto ma bisognava che se ne tornassero a casa quindi chiuse i cancelli principali mettendoci una grossa catena da un giorno all'altro la gigantesca fabbrica di cioccolato wonka divenne un deserto silenzioso le ciminiere smisero di fumare le macchine di ronzare e dall'ora in poi non ne uscì più né un cioccolatino né una caramella non c'era anima viva che vi entrasse o ne uscisse e perfino il signor willy wonka non fu più visto in giro passarono mesi e mesi ma la fabbrica continuava a rimanere chiusa la gente diceva povero signor wonka era così simpatico e poi produceva cose straordinarie e pensare che ora è completamente rovinato è tutto finito ma un giorno accade qualcosa di nuovo una mattina presto si videro esili colonne di fumo bianco levarsi dalle alte ciminiere della fabbrica la gente in città si fermò stupita a guardare ma che succede dicevano qualcuno deve aver riacceso le caldaie vuoi vedere che il signor wonka riapre la fabbrica corsero tutti ai cancelli aspettandosi di trovarli spalancati con il signor wonka in persona sulla soglia che dava il benvenuto ai suoi operai e invece no i grandi cancelli di ferro erano ancora chiusi e incatenati come prima ed il signor wonka non c'era traccia eppure la fabbrica funziona gridava alla gente ascoltate si sentono le macchine ronzare qualcuno deve averle rimesse in moto e si risente l'odore della cioccolata fusa nell'aria nonno giò si chinò in avanti posò il suo lungo indice ossuto sul ginocchio di charlie e sussurrò ma la cosa più misteriosa di tutte charlie erano le ombre che si intravedevano dalle finestre della fabbrica la gente dalla strada riusciva a vedere delle piccole ombre scure che si muovevano dietro ai vetri sberigliati delle finestre di chi erano quelle ombre chiese subito charlie questo è proprio quello che tutti avrebbero voluto sapere la fabbrica è piena di operai esclamava la gente eppure nessuno mi è entrato i cancelli sono ancora chiusi e sbarrati ma è pazzesco e poi nessuno esce mai dalla dentro tuttavia non c'era alcun dubbio che la fabbrica funzionasse funzionava e come e da quel giorno in poi ha sempre continuato a funzionare negli ultimi dieci anni per di più i cioccolatini e le caramelle che venivano prodotti col tempo sono diventati sempre più fantasiosi e prelibati e naturalmente ora quando il signor Wonka inventa qualche meraviglioso bonbon né Fiegelgruber né Prodnose né tantomeno Slugwort riescono a copiarglielo nessuna spia riesce più a intrufolarsi nella fabbrica per trafugarne il segreto ma nonno l'interruppe charlie si può sapere chi mai il signor Wonka impiega nella fabbrica per mandare avanti il lavoro nessuno lo sa charlie ma è assurdo possibile che nessuno lo abbia mai chiesto al signor Wonka nessuno l'ha più visto in giro non esce mai dalla fabbrica l'unica cosa che esce dalla fabbrica sono le tavolette di cioccolato e le caramelle nel muro di cinta c'è una porticina speciale da cui escono le scatole dei dolci imballate alla perfezione con su scritto l'indirizzo e ogni giorno i camion delle poste arrivano le caricano e le portano via ma nonno secondo te chi lavora là dentro mio caro ragazzo questo è uno dei grandi misteri del mondo dei fabbricanti di cioccolato una sola cosa si sa su di loro sono esseri molto piccoli le ombre che ogni tanto si intravedono dietro ai vetri delle finestre specie la sera tardi quando tutte le luci sono accese sono ombre di persone molto piccole non più alte del mio ginocchio per intenderci ma persone del genere non esistono osservò charlie proprio in quel momento entrò nella stanza il signor bucket il padre di charlie sventolava emozionato il giornale della sera avete sentito la grande notizia chiese poi spiegò il giornale in modo che tutti potessero leggere il titolo stampato a caratteri cubitali sulla prima pagina il titolo diceva la fabbrica wonka sarà presto aperta a pochi fortunati vuoi dire che veramente sarà permesso la gente di entrare nella fabbrica esclamò nonno jo presto leggi l'articolo va bene rispose il signor bucket spianando il giornale state a sentire bollettino della sera il signor willy wonka il genio dei dolciumi che nessuno ha più visto negli ultimi dieci anni ci ha inviato oggi il seguente annuncio io willy wonka ho deciso di permettere a cinque bambini non più di cinque badate bene di visitare quest'anno la mia fabbrica i cinque fortunati saranno accompagnati nella visita da me personalmente e a essi sarà concesso di vedere tutti i segreti e le magie della mia fabbrica alla fine della visita guidata come dono speciale sarà loro consegnata una scorta di cioccolato e caramelle che durerà per tutta la vita perciò tenete gli occhi aperti per i biglietti d'oro ho fatto stampare cinque biglietti su carta d'oro e li ho nascosti in cinque confezioni normali di comuni tavolette di cioccolato queste tavolette potrebbero trovarsi dovunque in qualsiasi negozio di una qualunque strada in una delle tante città di ogni paese del mondo su tutti i banconi che vendono i prodotti dolciari wonka i cinque fortunati che troveranno questi biglietti d'oro saranno i soli cui sarà permesso di visitare la mia fabbrica e di vedere com'è fatta dentro ora buona fortuna a voi tutti e in bocca al lupo firmato willy wonka quello è suonato mormorò nonna josephine niente affatto è brillante esclamò nonno jo è un mago provate a immaginare cosa accadrà adesso tutto il mondo si metterà alla caccia di quei cinque biglietti d'oro tutti compreranno le tavolette di cioccolato della wonka nella speranza di trovarne uno ne venderà più che mai ah che bellezza sarebbe trovarne uno è una scorta di cioccolate e caramelle per tutto il resto della vita gratis disse nonno george provate un po a immaginare una cosa del genere ci vorrà un camion per portarne tante intervenne nonna georgina al solo pensiero mi sento male disse nonna josephine che sciocchezze esclamò nonno jo pensa un po charlie non sarebbe una gran bella cosa aprire una confezione di cioccolato e scoprirci dentro uno scintillante biglietto d'oro certo nonnino ma non c'è neanche da sperarci disse mestramente charlie a me tocca solo una tavoletta di cioccolato all'anno non si può mai sapere tesoro lo confortò nonna georgina il tuo compleanno è tra una settimana hai le stesse probabilità di chiunque altro temo che questo non sia del tutto vero disse nonno george i ragazzi che troveranno i biglietti d'oro sono quelli che possono permettersi di comprare una tavoletta di cioccolato al giorno al nostro caro charlie ne tocca solo una all'anno non c'è neanche da sperarci per ci per ci Grazie a tutti.